Il risultato personalmente lo commendo in maniera molto positiva. Più complessivamente paghiamo un vento che ci può destrosso, che porta in Italia come in Basilicata la Lega molto in avanti e complessivamente il centro-destra ce lo consegna vincente. Nonostante tutto un centro-sinistra unito, ritrovato, che si posiziona superando il 30% dei consensi è personalmente un risultato che io auspicavo. Era giusto che i cittadini mi valutassero, mi giudicassero e mi sembra di aver avuto una lista che è la prima con un successo straordinario e personalmente un risultato che mi fa essere il primo degli aletti. Dire che mi aspettavo di più sarebbe facile oggi. Mi sembra che il risultato ci stia bene, mi soddisfi a tutto tondo in un contesto, in una circostanza politica e anche temporale piuttosto complessa e difficile. Consideriamo esattamente da dove anche il sottoscritto veniva negli ultimi mesi e negli ultimi anni, per cui sono veramente contento. Entrano con me due assessori della mia giunta ed entra il segretario regionale del Partito Democratico. Mi sembra che vi sia una sostanziale approvazione da parte degli elettori non solo di queste persone ma del lavoro che complessivamente noi abbiamo messo in campo. Carlo farà squadra con tutti quanti noi, noi con lui è un valore aggiunto, un uomo che dal civismo più avanzato può essere foriero e portatore di propositività, di programmi, di idee anche nuove, di un modo di pensare, di sentire e di dialogare con la gente è diverso dal nostro. C'è bisogno solo di attendere. Governare la regione non è una cosa semplicissima, se ne accorgeranno. Da un lato provo a pensare in positivo per i cittadini lucani perché hanno bisogno di avere risposte, dall'altro sono preoccupato perché tutte le cose promesse non saranno in grado di poterle mantenere. Ci vorrà tempo per capire e questo tempo lo utilizzeremo esattamente per trasferire ai cittadini le nostre idee, le nostre proposte, per raffermare il nostro programma, quello che viene da lontano e per dimostrare che forse avevamo ragione. Per me è stata una ragione di vita recuperare una dignità che è stata messa in discussione Dopo tante vicende che ovviamente per rispetto non cito, io avevo bisogno esattamente di capire se i sacrifici fatti, il lavoro svolto in questi anni verso i cittadini e verso la Basilicata avesse poi un senso e il consenso che ho ricevuto oggettivamente mi dice che posso andare avanti e che devo andare avanti. Io ne sono felice, ringrazio tutti e continuo a lavorare.